E' molto importante per noi suonare per la strada perché siamo a contatto appunto diretto col pubblico e abbiamo una risposta immediata e sincera insomma del pubblico che approva. Quando si suona gli strumenti insomma la musica fa piacere ascoltarla. Come è nato? Noi ci... è 15 anni almeno che facciamo questo genere, qualcuno ancora dà di più, qualcuno... E niente, la risposta del pubblico è immediata, questo genere accontenta veramente tutti, è una cosa divertente che piace, piace proprio a tutti e si vede. E' non è da tutti eh, suonare proprio senza nessun effetto proprio naturale. Quando ha cominciato? Ma io non facevo i musicisti, io facevo l'imprenditore delle figure, però fortunatamente ho sempre suonato nel tempo libero e ora essendo in pensione mi fa piacere avere questa compagnia che mi tiene vivo.